I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque interprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge, per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e il 73.32% dei conti di clienti al dettaglio perdono denaro facendo trading con CFD. Rispettivamente con TICMIL UK e LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, il webinar presentato da me, Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di TICMIL. Come sempre, qualche minuto dedicato alla presentazione del broker. TICMIL è un broker non di Lindesk con commissione tra le più basse del settore e spread a partire da zero. Siamo regolamentati dalla FCA UK, fondi quindi sono custoditi, conti segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune, quindi anche quelle di arbitraggio, scalping e altro. Non ci sono requote, la velocità di esecuzione pari a una media di 0,1 secondo garantita dagli oltre dieci server sparsi per il globo. Abbiamo diversi, copriamo diversi mercati, ovviamente Forex, CFD sui indici, tra cui il Fuzzimib, materie prime, metalli preziosi e obbligazioni e il Bitcoin. Abbiamo gli strumenti di trading come AutoChartist, di cui abbiamo presentato il webinar nel precedente appuntamento, la VPS che è in sconto, il one click trading e la demo è illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi, abbiamo un interessante programma partner TICMIL che mi invito ad approfondire sul sito e siamo uno dei pochi broker a regime dichiarativo ad offrire un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain con studi commercialisti esterni, quindi vedete qui l'email e il sito dove potete trovare le relative informazioni. Questo è il server, è la mappa dei nostri server sparsi per il globo, abbiamo quelli ovviamente più importanti di Londra e Nord Virginia e Tokyo, gli altri di backup. Poi, questa è una panoramica di TICMIL su un sito esterno, il famoso MyFXbook, potete comparare voi stessi anche adesso in tempo reale, vedrete che per la maggior parte delle volte le caselle sono illuminate di verde per quanto riguarda l'offerta spread di TICMIL, perché significa che i spread, scusate le commissioni, sono tra le più basse rispetto agli altri maggiori competitor. Grazie soprattutto anche alle nostre condizioni e alla velocità di esecuzione, abbiamo raggiunto dei volumi di trading molto importanti, tra cui appunto abbiamo superato il muro dei 100 miliardi di volume di trading mensili. Poi siamo stati anche riconosciuti adesso come miglior broker per esecuzione e quindi siamo stati premiati, questo che vedete con questo signore con il premio, è il nostro CEO Duncan Anderson. Ok, allora la presentazione del broker è finita, quindi adesso entriamo nel vivo. Allora, questo webinar sarà strutturato in due parti, spero di riuscire a farlo stare dentro un'ora, al limite se non ci riusciamo la seconda parte la spostiamo al prossimo mercoledì. Allora, voglio cercare di discutere con voi in maniera quanto più possibile oggettiva su quella che è attualmente l'offerta del trading online, che io reputo, passatemi il termine, scandalosa, perché attualmente sia io come rappresentante di un broker serio e professionale come TICMIL, ma anche come trader, mi sento comunque di dissociarmi da questo tipo di formazione e offerta che viene fatta anche nel mondo online, perché cerco di trasmettere della formazione seria con progetti sostenibili nel tempo e quindi che siano poi anche riscontrabili. Per questo, prima di entrare nel vivo del sistema, cerchiamo di capire insieme in che ambiente un trader sottocapitalizzato, ma anche un trader normale, si trova ad affrontare ogni giorno. Vedete qui, ho inserito quattro punti, ti credo ma voglio le prove, meglio lasciar perdere o provarci e poi passiamo al metodo, l'unico metodo, tra virgolette ovviamente l'unico metodo per me, poi ovviamente la mia opinione è sicuramente opinabile, sostenibile nel tempo per chi è sottocapitalizzato e poi un altro punto importante, la strategia non deve essere complicata e quindi andiamo a presentare lo studio. Allora, andando avanti con le slide, ti credo ma voglio le prove. Allora, cosa vediamo e continuiamo a vedere nonostante le direttive MIFID 2 e le recenti disposizioni ESMA? Allora, a parte le insistenti telefonate che credo riceviate anche voi, che ricevo io personalmente anche come rappresentante del broker ma avendo lasciato il mio cellulare magari anche su internet comunque mi tempestano di chiamate soprattutto dal sedicenti dottori con magari accento anche dell'est che vi propongono delle soluzioni per diventare ricchi e poi soprattutto sui social si legge ormai un po' di tutto. Io che cosa ho fatto? Ho riportato qualcosa in queste slide per farvi capire e per capire insieme comunque e per far capire soprattutto a chi si approccia a questo mondo che senza le dovute precauzioni purtroppo si rischia di incappare in queste situazioni che ormai hanno raggiunto un livello di assurdità non so voi come la pensate ma assolutamente sono incontrollabili e nonostante l'ESMA e nonostante comunque la MIFID questi post che noi vediamo che adesso andremo a leggere insieme continuano a proliferare sui vari social. Ad esempio ho riportato questo screenshot di un trader, trader o comunque una persona, che chiedeva a chi stava comunque promuovendo il suo servizio quanto si potesse guadagnare con 300 euro con un deposito di 300 euro e il sedicente promotore gli risponde dicendo calcola circa un 10% al mese come media mensile. Ora 10% al mese come media mensile sono 120% all'anno quindi capite bene che 10% al mese come media mensile è molto alta quindi se andiamo a fare mettiamo anche un 100% quindi il raddoppio del capitale con interesse composto in 10 anni reinvestendo i guadagni mi porto a casa oltre 790.000 euro e in 20 anni, non so se voi riuscite a leggere, vi portate a casa questa cifra. Ora, vi sembra possibile? Se mettete un calcolatore qualsiasi su internet e vi andate a mettere queste percentuali vi esce fuori questo. ma ce ne sono diversi ci provano anche attraverso messaggio privato ciao, ti interessa avere info sul progetto che rende il 10% mensile addirittura su una società che ha il rating di AAA non so da dove l'abbia preso e quindi ci provano anche via messaggio privato. Poi un altro trader che chiede, un'altra persona non trader perché comunque i trader seri comunque sanno che queste percentuali non sono fattibili e dice, ho letto su internet che gli esperti professionisti del trading possono anche ricavare profitti annumi del 600% e chiede, è vero o è una falsità? E qui uno si può rispondere anche da solo nel senso che appunto, andando a prendere sempre quella tabella che vi ho fatto vedere se io facessi realmente il 600% al mese con 1000 euro di deposito iniziale con una durata di 5 anni con il 600% al mese mi porto a casa questo importo che sono 16 milioni di euro vi pare possibile? Ma ce ne sono tantissime adesso non perché voglio dedicare tutto questo tempo a questo tipo di pubblicità però che è ingannevole quindi chiariamolo è il 25% al mese e vedete su molto quante volte avrete visto che appunto sotto questi post ci sono tante persone che scrivono info, info, info ok, 25% come media mensile wow quindi proviamoci facciamo 25% al mese ok, ti voglio anche credere quindi sarebbero un 300% all'anno quindi se io deposito 10.000 euro come capitale con un anno di crescita di 20 anni io praticamente vado a risolvere il problema del debito pubblico e quindi adesso io mi chiedo se fosse davvero così semplice ma vi pare che non so ma anche lo Stato italiano andrebbe magari gli converrebbe emettere del debito quando in realtà poi esistono questi metodi così facili come guadagno è impossibile cioè ci sono persone io come comunque rappresentante di un broker serio io purtroppo parlo con diverse persone con diverse persone che si approcciano a questo mondo in cui la prima cosa che mi chiedono soprattutto chi non è esperto se abbiamo un account manager che offre segnali questa è la prima una delle prime domande che mi chiedono ovviamente noi non abbiamo nulla di tutto ciò perché noi siamo solo un broker e non possiamo nemmeno per regolamentazione dare dei segnali perché sono vietate anche dalla Conso però purtroppo molti account manager promettono queste cifre adesso non magari il 300% all'anno perché questi sono casi molto limiti ma vi assicuro che su internet se ne leggono di tutti i colori e vi invito che adesso state vedendo questo webinar quando trovate dei post del genere segnalateli perché vanno segnalati io li segnalo sempre perché questa è pubblicità ingannevole e per chi fa questo lavoro serio come me come tanti altri professionisti questa è una pubblicità che poi diventa tossica per tutto il settore quindi tutto il settore ci va di mezzo e quindi poi l'opinione che si ha del forex e che sia soltanto una truffa proprio perché ci sono questi millantatori che offrono questi segnali queste opportunità che sono fuori da ogni tipo di logica però permettetemi poi chiudo questo questo passaggio quelli che mi fanno un po' più arrabbiare sono quelle persone che mi pubblicano gli screenshot quante quanti quanti ne vedete su internet siate onesti rispondetemi in chat quante persone vedete che postano solo lo screenshot vi postano questi screenshot e poi allegano un commento dove sono gasati dei loro risultati dicono anche oggi è andata bene anche oggi abbiamo chiuso i nostri clienti hanno guadagnato tot ok allora quando però trovate questi personaggi chiedetegli ok mi fai vedere un MyFXBook vi assicuro che ogni volta o spariscono oppure iniziano ad offendervi non si capisce il motivo per cui poi si debbano arrabbiare perché se tu mi mostri uno screenshot ricavato da MT4 o da MT5 sai benissimo che ti stai mostrando quindi vuoi mostrare un qualcosa agli altri una performance e quindi ci vuoi mostrare la tua bravura va bene ma rendi l'oggettiva in modo tale che chi ti legge e anche ti 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 vede come un professionista serio perché se io allego a questo screenshot un MyFXBook le cose cambiano radicalmente perché io poi posso avere un un quadro completo quindi anche se tu mi stai vendendo un servizio che può essere legittimo nessuno lo mette in dubbio però devi fare le cose fatte in maniera professionale quindi allega se io ti chiedo un MyFXBook non c'è alcun motivo per cui tu non debba darmelo perché altrimenti non fare la pubblicità degli screenshot vedo che in chat siete comunque d'accordo con me quindi per segnarle queste cose segnalate su Facebook perché la maggior parte bazzicano su Facebook su Telegram non so come si faccia segnalare però ad esempio sulla chat che gestisco io quella di Working Forex queste cose come vedete non soprattutto chi già segue la chat e siamo tantissimi sa che non c'è spazio per queste persone che comunque possono queste cose ci provano ogni tanto però poi vado sempre a bannarli quindi quindi però su Telegram per rispondere alla domanda di Gianfranco non so come si si faccia segnalare allora detto questo quindi con il quindi concludo questa parte qui facendo una riflessione teniamo teniamo conto che i maggiori i migliori fondi con le migliori menti e tecnologie non riescono a battere il proprio benchmark di riferimento cioè si prendono un riferimento come l'indice come può essere l'S&P 500 e la maggior parte di loro non riesce a batterlo negli anni soprattutto anche avendo comunque delle tecnologie le ultime tecnologie e le migliori menti a loro disposizione quindi come si può credere e pretendere che ci riesca magari un trader che magari è chiuso nella sua stanza con una connessione che magari non che lascia anche a desiderare come si può credere che riesca a fare delle percentuali del 600% all'anno oppure il 30% al mese cioè queste dobbiamo cercare di essere il più possibili obiettivi e di non credere a queste vere e proprie favole piacerebbe a tutti non impegnarsi e non sputare sangue con il training scusatemi il termine ma purtroppo il training è tutt'altro il training è tutt'altro quindi non è per tutti e quindi quando vediamo questi operatori tossici mi raccomando segnamoli sempre quindi meglio lasciar perdere o o no o provarci allora se siamo dei perdenti io ho qui riportato un passaggio molto bello del libro di Nassim Taleb non so quanti di voi l'abbiano letto l'antifragile sicuramente molti avranno letto Il cignorero è giocati dal caso vi invito a leggere anche questo libro perché è un po' più pesante rispetto agli altri due però è molto molto interessante e ho riportato un passaggio che mi è piaciuto particolarmente che questo per me è un perdente è colui che dopo aver fatto un errore non si analizza non lo sfrutta ma prova imbarazzo e vergogna invece di sentirsi arricchito di una nuova informazione cerca di spiegare perché ha commesso lo sbaglio invece di andare avanti questa tipologia di persone spesso si sente vittima di un complotto di un capo cattivo o del maltempo quindi se rientrate in questa categoria e questo lo può sapere lo possiamo sapere soltanto noi quindi la nostra coscienza sapere se rientriamo in questa categoria io cerco di non rientrarci il trading non fa per voi soprattutto se poi vedete il trading come una un qualcosa con un ancora di salvezza per risolvere magari i problemi magari i problemi economici che tutti possono comunque avere è meglio comunque smettere perché il trading in questo caso ve lo dico con tutta onestà è soltanto un problema aggiuntivo perché se dovete risolvere i problemi economici facendo trading non li risolvete li peggiorate e quindi potete fare solo disastri bisogna cercare un equilibrio comunque quando si quando si fa trading so che siamo tutti comunque spinti dal guadagno però questo guadagno non può arrivare con quelle percentuali che abbiamo visto oppure in tempi brevi non per suonarmela e cantarmela però se volete provarci dovete avere un po' un approccio che è quello che cerco di avere io cioè io adesso sto parlando da trader io faccio trading dal 2008 e quindi il mio approccio è questo cioè io non smetto mai di provare di studiare di non ho preconcetti verso le altre persone o comunque magari anche dei formatori che mi ispirano non ho alcun preconcetto cioè non sto lì a dire l'analisi tecnica è cattiva oppure la price action non funziona non mi interessa io voglio sbatterci la testa farmi le mie analisi quindi statistiche se ho una conferma oggettiva che qualcosa non funziona allora io in quel caso passo ad altro comunque cerco di in qualche modo di ricavare delle informazioni utili da uno studio che non voglio buttare via perché magari ci ho buttato cioè comunque ci ho messo del tempo per fare quelle analisi quindi ricavare delle informazioni preziose e poi adesso vedremo proprio quel sistema che vi propongo che deve essere visto come uno studio non come la soluzione però nasce proprio dagli errori che ho fatto che continuo comunque a fare quindi quindi secondo me è molto importante e quindi imparare adesso non è per fare retorica però i fallimenti comunque servono perché soprattutto se poi riusciamo a ricavare delle informazioni corrette per altri sistemi quindi poi un altro consiglio che mi sento di dare e di non perdere tempo con le demo perché secondo me sono dei propri dei veri placebo capita moltissimo che io parlo con dei clienti che li sento al telefono e mi dicono ho provato la demo sulla demo ho guadagnato ho raddoppiato il capitale in pochissimo tempo adesso voglio voglio comunque mettere un deposito fare un bel deposito però mi dovete dare la leva a 500 perché qui guadagno tantissimo però purtroppo con le demo al di là che appunto vi fanno vivere secondo me in una realtà parallela perché il problema delle demo è che lo slippage non c'è quindi andare a fare delle analisi quindi fare magari fare degli investimenti corposi anche magari soltanto perché si sono avuti dei buoni risultati in demo secondo me è molto sbagliato quindi a mio avviso meglio provare magari anche con piccoli importi e e quindi cercare di soprattutto ecco cercare di provare il vostro livello di mal di pancia con le perdite perché può sembrare assurdo ma magari siete bravissimi molto disciplinati però magari appena perdete del denaro andate in paranoia e quindi e quindi vi assicuro cioè con il training i peggiori difetti che avete escono fuori quindi se non vi lasciate cambiare dal training secondo me si fa una brutta fine quindi se non rientrate nella categoria che ha definito Taleb e quindi sui consigli che mi sono permesso di dare allora in quel caso si può provare aspettate abbiamo un goccio d'acqua allora allora da dove nasce il sistema da una semplice e banale considerazione ossia se sono stato così bravo a lasciar correre le posizioni in perdita e non mi hanno portato a nulla se non ad un aumento dei costi swap che mi vieta invece di fare il contrario e lasciare aperte quelle vincenti può sembrare banale ma da questa riflessione un po' mi è nato questo tipo di sistema che adesso voglio voglio provare voglio comunque provare insieme a voi vi ho inviato una chat un link della chat perché questa cosa io sono sempre il primo che le prova quindi non è che adesso finisce il webinar è finito e non chi si è visto si è visto no io da domani comunque lo sto facendo da un po' di giorni anzi sono forse già il secondo mese questo progetto e quindi continuerò a farlo ogni giorno qual è l'obiettivo del sistema allora è nato da degli studi che ho fatto su non so chi è della chat però chi segue la chat sa che ogni giorno posto delle analisi dei retail e anche del cot report e quindi da lì poi si sono creati degli studi delle strategie che io comunque ho testato per mesi per anche alcuni anche anni però che cosa è successo che notavo ho provato questo tipo di approccio che cercavo di ingambiare il prezzo dell'euro dollaro o comunque di altri strumenti ma sui retail però essenzialmente su euro dollaro e mi venivano fuori queste equiti cioè sono sicuro che molti di voi si riconoscono in queste equiti cioè la linea rossa che sale e la linea gialla che siamo un po' dalla parte opposta questo significa che le posizioni perdenti molto spesso non sempre però molto spesso è così le posizioni perdenti si lasciano si lasciano correre e quelle vincenti vengono chiuse e vengono magari anche gestite in aging allora io ho provato a fare questo benedetto edging perché appunto ci voglio sbattere la testa perché molti dicono funziona no ti aiuta come disciplina la mia opinione è che con l'edging si creano solo si crea solo maggior confusione perché a parte i costi degli swap che vi mangiano comunque ogni ogni giorno con quelle posizioni perché anche se le avete giate comunque il costo dello swap è quasi sempre a sfavore proprio perché magari poi come ci sono stati gli aumenti di swap negli ultimi periodi comunque sono dei costi che se lasciate aperte delle posizioni anche di anni sono comunque dei costi importanti quindi perché andare a sostenere questi costi inutili quindi gestire con l'edging oltre a pagare comunque delle commissioni maggiori proprio perché comunque anche se andate a chiudere la posizione quindi la eggiate comunque anche se virtualmente o comunque vi dà un senso di tranquillità in realtà dal punto di vista tecnico sono solo un aumento dei costi io però ci ho provato e e purtroppo e ho chiuso comunque in guadagno perché ho fatto due progetti allora ho portato due progetti sui retail che ho anche mostrato i risultati uno è stato chiuso praticamente in break even e l'altro invece ha guadagnato bene però ovviamente mi ha creato questa equity cioè io ho speso dei soldi in swap e in commissioni che avrei potuto evitare quindi l'obiettivo non deve essere questo ma l'obiettivo in realtà che si propone nello studio è questo cioè la linea gialla che deve essere superiore a quella rossa perché secondo me sarà tutto da da dimostrare sarà tutto da dimostrare con quella con la linea gialla quindi con le con le operazioni che guadagnano si crea si riesce a creare comunque un vantaggio un vantaggio che io adesso sto vediamo adesso poi insieme se se è possibile comunque cercare di adesso non mi vengono bene le parole però tenete a mente questo questo screenshot perché l'obiettivo deve essere l'opposto da quello che la maggior parte dei trader fa e io oltre alla mia esperienza ho la fortuna di lavorare per un broker e di confrontarmi giornalmente con tantissimi trader e quindi io vi sto riportando non solo la mia esperienza personale che può valere anche quello che vale nel senso può valere tanto o poco però vi porto anche l'esperienza di chi fa training e adesso con l'esma con quelle percentuali che vedete dell'81% e sono alte è vero che anche che non tutti possono guadagnare non tutte le start up ad esempio divendono di successo anche lì abbiamo dei fallimenti clamorosi si parla del 90% quindi probabilmente è una legge universale però tenete conto che ci sono degli errori talmente banali che possono essere evitabili quindi sicuramente non lasciate correre le perdite lo so che è banale non non leggiate non leggiate non andate a a martingalarle perché volete tornare sul prezzo medio di carico non funziona non funziona perché è oggettivo su un caso magari c'è anche il fenomeno che riesce il fuoriclasse che riesce comunque a gestirle quelle situazioni ma dobbiamo cercare di di seguire delle regole che comunque abbiano una valenza almeno statistica io quello che vedo dai clienti profittevoli è che fanno l'opposto quindi loro sono molto bravi a tenere le posizioni e poi da quelle posizioni aumentano aumentano le altre posizioni chiamatela anti martingala chiamatela come volete però è uno dei pochi metodi che realmente permettono di massimizzare i guadagni cioè quando quindi c'è la dinamica a favore perché la dinamica non c'è sempre la dinamica di mercato a favore però se siete avete un sistema trend following e parte il trend riuscire ad a intercettare dei punti di ingresso ragionevoli su quel trend e massimizzare quindi i guadagni vi porta a a chiudere comunque l'anno in positivo e quindi a superire quelle perdite che avete durante le fasi laterali quindi bisogna comunque cercare di di massimizzare appunto questi guadagni ok allora adesso vediamo un po' i punti se no altrimenti mi dimentico ma questo lo vediamo dopo vi devo far vedere un po' di backtest oh perdonatemi un secondo arrivo tra un minuto un minuto arrivo un attimo ok allora quindi una strategia sostenibile ho scritto antifragile ma secondo me è ancora un po' utopistico pensare di riuscire a trovare una strategia antifragile sul mercato però una strategia sicuramente sostenibile nel tempo deve tener conto di tre cose sostanzialmente della volatilità intrinseca dello strumento quindi per lavorare le varie dinamiche di mercato durante gli anni tenere conto delle correlazioni tra i vari strumenti per evitare di lavorare su strumenti altamente correlati perdendo offertando di vista la gestione del rischio questo adesso è un punto che vediamo che secondo me è molto importante massimizzare i profitti quando la dinamica di mercato su cui si basa la strategia è a favore allora questo studio che adesso vi propongo si basa solo su euro-dollaro perché euro-dollaro perché euro-dollaro è lo strumento che costa di meno quindi tenete conto che se avete uno spread con le commissioni medio di mezzo pip che è bassissimo con TIC1000 avete questo tipo di spread tenete conto che comunque ha un'incidenza sulle operazioni che fate quindi può avere comunque un'incidenza di costi dal 5 al 10% rispetto alla volatilità dello strumento quindi tenete conto che se non so ad esempio fate un semplice calcolo per 100 operazioni già pagate 50 pip di spread solo su euro-dollaro se fate 1000 operazioni all'anno pagate 500 pip solo di di spread quindi pensate un po' già se siete su broker adesso non è che voglio fare un po' anche sì però già se state con siete con broker che vi danno un pip e mezzo di spread sull'euro-dollaro e mi andate a fare 1000 operazioni all'anno sono già 1500 pip che voi pagate così solo per aprire le posizioni quindi sono dei costi che dobbiamo cercare di tenere bassi quindi non andate a tradare su cross che hanno 3-4 pip a meno che non ci sia una volatilità che giustifichi quello spread però cercate di tenere molto bassa anche i CFD sugli indici dovete lavorare con CFD che hanno poco spread non cercare CFD oppure sui CFD sulle azioni sono terribili perché hanno degli spread altissimi dove non conviene assolutamente andare a a tradare quindi bisogna comunque lavorare con strumenti poco costosi e conoscere la volatilità del sistema su cui state lavorando questa è la volatilità storica dell'euro-dollaro che non so se si vede bene magari ve la ve lo ingrandisco però devo partire dall'inizio aspettate allora eccola qui allora abbiamo dal 2005 vedete che la volatilità tra il massimo e il minimo è stata superiore ai 2000 pips su euro-dollaro durante il 2005 poi man mano comunque si è mantenuta stabile nei successivi anni fino all'anno della crisi dove abbiamo avuto 3600 pips di volatilità e poi sui 2007 quindi man mano è scesa questa volatilità quindi la cosa importante è che se avete un sistema che dove magari dovete guadagnare che ne so 2000 pips vi mettete in testa che all'anno dovete fare 2000 pips non potete farlo sicuramente sarà molto difficile farlo sull'euro-dollaro però perché comunque la volatilità dello strumento è comunque eccessiva per quel tipo di strategia che voi cercate quindi dovete avere un giusto rapporto cioè 2000 pips cercarli su euro-dollaro all'anno è molto difficile soprattutto adesso con la volatilità che è molto scesa quindi dai massimi ai minimi siamo intorno ai 1250 pips quindi o siete dei fenomeni che riuscite a prendere tutti gli swing a lavorarli in maniera sublime quindi andando a prendervi massimi e minimi oppure meglio abbassare le pretese e cercare di ragionare su obiettivi più realistici quindi anche magari un 1000 pips all'anno non è si possono fare perché comunque sono comunque meno di 100 pips al mese se ci pensate quindi non è non è sicuramente impossibile farlo quindi la volatilità è importante poi tenere conto delle correlazioni perché se lavorate con con sull'euro non ha molto senso andare a se magari avete un'idea sull'euro che possa salire non ha senso andare a lavorare a meno che non sia una strategia ad hoc che prevede proprio sulle correlazioni però non ha senso andare a raddoppiare l'esposizione con strumenti molto correlati quindi che ne so vedete da questa tabella che ho preso dal sito di Investing.com vedete che l'euro dollaro è molto correlato sulle 50 settimane con l'80% con la sterlina con l'oro e anche con NZD USD quindi magari se avete un money management che vi dice che dovete entrare con un lotto per farvi un'idea e poi andate a comprare un lotto di euro dollaro un lotto di Gpb USD un lotto del gold magari avete una avete raddoppiato l'esposizione virtuale anche che magari non non ve l'aspettavate quindi magari vi vanno contro tutti gli strumenti quindi si potete anche guadagnare il triplo ma sicuramente potete anche perdere più di quello che avete preventivato quindi bisogna tener conto delle correlazioni quindi su questo sistema si lavora solo su euro dollaro perché non serve altro e bisogna massimizzare i profitti quando le cose vanno bene allora io ho provato a fare questo studio però ho cercato di avere una cosa qualcosa di oggettivo perché le indicazioni del cot report specialmente sull'euro sono molto funzionano cioè c'è poco da fare non sono stati fatti soltanto da me questi studi sul cot report però le indicazioni che si hanno dal cot report sul lungo periodo funzionano quindi è sempre meglio trovarsi dalla parte dei grossi speculatori che dalla parte opposta quindi soprattutto sull'euro ci sono buone possibilità che lo studio comunque sia sostenibile a parte un drawdown che vediamo qui adesso entriamo nello specifico comunque sul cot report si sono avute sempre informazioni utili e queste le ho ottenute in dieci anni quindi sono dieci anni di backtest sul cot report quindi vediamo un po' nel 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 dettaglio nel 2008 ha guadagnato molto bene quindi per questo massimizzare perché una cosa è magari entrare solo con un contratto quando le cose vanno bene quindi seguire la tendenza già comunque è difficile chi ci riesce comunque è bravo però sei ancora più bravi se si riesce comunque a massimizzare questi questi guadagni quindi entrando con dei contratti nell'esempio io ho fatto un day backtest partendo con massimo tre contratti quindi quando adesso per farvela breve quando i grossi speculatori passavano dallo zero a magari che ne so a 25.000 contratti di net position long io mi mettevo long cosa succedeva la settimana successiva aumentavano ancora le posizioni quindi passavano a 50.000 ad esempio di contratti long allora compravo nuovamente euro dollaro quindi la prima la spostavo a break even per non aumentare l'esposizione e la seconda correva quindi in sostanza soltanto l'ultima poteva perdere perché le altre comunque erano a break even se invece entravo long però il prezzo mi andava contro e la settimana successiva avevo comunque un aumento delle posizioni quindi dovevo comunque in teoria aumentare le posizioni non lo facevo perché non andavo a martingalare quindi quella perdita rimaneva lì ferma fino a che non andava a stop quindi se poi ritornava su di nuovo il mio prezzo di carico e saliva su e avevo comunque un'indicazione chiara dai grossi speculatori compravo l'altro contratto quindi questa cosa qui sul lungo periodo e su tutti gli anni si è dimostrata comunque abbastanza solida quindi nel 2008 nonostante l'anno della crisi è guadagnato molto bene oltre 5.000 piz con questo metodo ragazzi io l'ho detto perché leggo in chat questi sono sulla carta cioè non c'è nessuna certezza che da domani facendolo su in real funzioni sulla carta da questo però d'altronde se non iniziamo da qualcosa non non iniziamo mai appunto quindi dai backtest si hanno avuto abbiamo avuto questi risultati quindi il 2009 che è iniziato in perdita quindi è andato sotto di 1.000 fips e poi è tornato su per guadagnare oltre se non sbaglio si sono 1.600 fips 2010 stessa cosa comunque ha guadagnato molto bene non ha dato drawdown 2011 è partito leggermente in drawdown per poi guadagnare e andare se vogliamo fare un doppio massimo delle performance nella parte finale dell'anno per poi scendere di nuovo il 2012 è stato la prima parte i primi sei mesi sono stati molto sono stati profittevoli per e poi la la performance è crollata quindi questo metodo dell'anti martingala anzi io preferirei chiamarla costruzione piramidale perché andiamo ad aumentare le posizioni in maniera non non aggressiva con massimo tre contratti però nel 2012 questa cosa non ha funzionato ancora peggio nel 2013 quindi ha perso nel 2013 2700 pips per poi riprendersi nell'anno nel 2014 che chi negoziava comunque si ricorderà che euro dollaro è partito con un trend molto ribassista che però aveva poca volatilità ma molto profondo quindi lì in quell'anno chi ha fatto delle griglie dalla parte opposta in martingala è sicuramente saltato in aria perché quel tipo di trend è stato molto molto bastardo scusatemi il termine per chi appunto aveva questo approccio perché il prezzo continuava a scendere lo faceva in maniera poco volatile ma lo faceva in modo molto repentino e quindi chi andava a martingalare non riusciva mai a rientrare nel prezzo di medio di carico invece con l'anti martingala questo ha funzionato molto bene proprio perché era diciamo lo scenario ideale allora il 2015 è partito bene questo 2015 per poi scendere fino a ad azzerare le perdite per poi riprendersi nella parte finale insomma 2016 in che è stato un anno anche molto laterale quindi il laterale con bassa volatilità ha perso per poi andare a riguadagnare 2017 molto bello perché comunque ha guadagnato quasi come il 2008 allora adesso non è che per sognare però secondo voi che speranza ha un trader sottocapitalizzato vediamo se siete ancora sì vedo che comunque siete ancora numerosi secondo voi che speranza ha un trader sottocapitalizzato magari con capitali da 500 o 1000 euro di riuscire a ricavare qualcosa di buono da questo tipo di sistema cioè come può un trader sottocapitalizzato cercare di crearsi un qualcosa negli anni allora Antonio dice nessuna vediamo se qualcuno ha un'idea intanto così riesco a bere un goccio d'acqua allora Alfred dice frazionando il rischio money management con rischio 2% senza capitale non si tratta perché non si guadagna come è vero Danilo allora non c'è allora con 500 o 1000 euro non dobbiamo essere realistici non si riesce ad andare da nessuna parte perché perché purtroppo non 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 c'è possibilità è utopistico pensare di raddoppiare il conto di magari entrare con leva 500 perché magari il cot funziona io vi ho detto che funziona il cot e voi da domani mi mettete in a favore di cot semplicemente e quadruplicate il conto no purtroppo non è così allora l'unico modo adesso questo non è per per illudere qualcuno però oggettivamente è così e versare degli importi al mese nel senso che cosa voglio dire cioè farvi sicuramente risparmiare quello è l'importante risparmiare e andare ad aggiungere man mano al conto degli importi in modo tale da raggiungere un capitale di trading decente perché se ci volete provare nel trading con 500 o 1000 euro perché volete fare il colpo della vita il 99% vi andrà male poi se siete fortunati magari anche quadruplicate il conto però secondo me dopo se avete questo atteggiamento dopo sei mesi magari entro sei mesi lo bruciate nuovamente col conto quindi magari mi illudete soltanto allora io ho provato un po' a giocare non con questo con interesse composto che abbiamo visto lì che è fantascienza però mi sono un po' messo nei panni perché siamo partiti tutti sottocapitalizzati allora io vi dico parlando della mia esperienza io ho iniziato a fare trading nel 2008 quindi sono stato comunque ho lavorato per 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 delle banche ovviamente ho risparmiato comunque dei soldi che mi hanno permesso poi di investire che primi soldi li ho persi li ho persi con le opzioni Manilla non so chi li utilizza però anche io ho avute come tutti del resto comunque delle batoste quindi da lì ho poi cercato di approcciarmi in modo di approcciarmi in un modo oggettivo però non non avevo la tranquillità del con il training quindi facendo trading e basandomi solo sulle performance che erano anche buone però non non arrivavo a livelli per pagarmi le spese ho deciso di comunque lavorare intorno al trading ma di diversificare il mio rischio nel senso che io lavoro sempre con il training però mi creo altre opportunità quindi lavorare ad esempio con un broker collaborare con un broker è stato per me comunque una salvezza proprio perché ho comunque non ho rischiato il di perdermi con il training nel senso proprio non ho sbagliato l'affermazione perché con il training si rischia soltanto di fare casini se si è sottocapitalizzati se avete già del capitale ovviamente il discorso questo non vale però non l'ho iniziato questo percorso prima però mi sono messo un po' nei panni di chi magari si trova adesso ad iniziare con 500.000 euro perché vi assicuro che mi chiamano moltissimi clienti che versano quegli importi credendo appunto di risolvere i problemi i vari problemi economici allora l'unico modo a mio avviso per chi è sottocapitalizzato è crearsi un piano di accumulo nel tempo con il trading allora io ho fatto ho provato a fare delle simulazioni allora mantenendo un 10% all'anno però rispondendo in chat secondo voi un 10% all'anno è fattibile con il trading sì magari allora per me sì allora non è cioè secondo me forse un po' troppo ho preso puntuoso cercare di incassarlo ogni anno però secondo me comunque con con un buon buon approccio con un buon approccio riusciamo comunque a raggiungerlo il 10% si può fare ehm 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 Antonio beato te che hai fatto il 186% eh però quelle sono sono cifre che non sono per i comuni mortali io mi ritengo un comune mortale io il 100% il 200% all'anno non l'ho mai fatto e mai lo farò perché io ho un profilo di rischio molto eh non sono una persona eh aggressiva sui mercati non lo sono nemmeno nella vita però comunque non riesco per la mia indole eh ad avere dei ritorni ehm a doppio a in questo caso a doppio cifre ma è è molto al mese è quasi impossibile Antonio ehm quindi per me il 10% però si può incassare al mese ah scusate non al mese dimentica all'anno quindi se si parte con un capitale magari anche di 1000 euro vedete su questa mi sentite bene perché Alfred dice che l'audio è è distorto ok allora se si parte con un capitale di 1000 euro dobbiamo con questa strategia l'audio va e viene ma non c'è no scusate vediamo scusate cambio microfono mi sentite meglio adesso ok ok questo ok allora dicevo su partendo con un capitale da 1000 euro almeno 1000 euro bisogna comunque cercare di comunque partire con un capitale dignitoso quindi se operiamo con una una site singola di con un valore di 0,10 centesimi quindi con un micro lotto abbiamo su quel capitale un margine di 10.000 pips cioè significa che voi per bruciare questo conto dovete perdere 10.000 pips su euro dollaro non li ha mai fatti però non si può mai sapere ma mantenendo costante questo margine nei vari mesi in cui fate l'accumulo potete con un 10% all'anno quindi non stiamo parlando di cifre irraggiungibili potete comunque ottenere dei risultati a seconda di quando versate di quanto versiate al mese interessante ad esempio con un piano di accumulo di 100 euro con un capitale di 1000 potete arrivare a questo importo quindi 10.000 in circa 6 anni lo so per alcuni può essere tantissimo però tenete conto che il potenziale c'è perché questa è matematica qui non ci stiamo aumentando nulla quindi se mantenete costante questo 10% all'anno magari un anno fate la super performance magari come ha fatto Antonio l'altro anno perdete non so un 10% o poi adesso vedremo anche io nel dettaglio la simulazione che ho fatto sul cot comunque riuscite a a seconda del piano di accumulo che fate al mese in base al capitale che avete quindi iniziale che è sempre di 1000 euro però se fate un piano di accumulo di 100 euro per farvi questo adesso un po' per sognare però capisco che può essere pretestuoso farvi vedere questo studio ma è uno studio quindi ve lo faccio vedere giusto per farvi capire che comunque il potenziale c'è anche per chi magari è sotto capitalizzato però è importante riuscire comunque a destinare mensilmente una parte dei propri risparmi se credete nella strategia ma che non debba essere per forza il forex può essere anche qualche altro tipo di investimento che ritenete che conoscete bene perché dovete conoscerlo l'investimento non potete investire in qualcosa che non avete la più palida idea di come funzioni io lo voglio fare ad esempio lo farò adesso con questo progetto studio questo caso studio proprio sul forex sull'euro dollaro perché è quello che conosco meglio quindi ad esempio in 22 anni potete portare il conto a queste cifre partendo con 1000 euro con un piano di accumulo di 100 euro se andate a fare un piano di accumulo di 500 euro al mese potete raggiungerlo in 10 anni ovviamente la percentuale deve essere del 10% all'anno non ottenete il 10% fate di meno comunque sicuramente è molto meglio che provare invece ogni volta a caricare il conto con 200 300 euro la caricata a 1000 con la leva a 500 magari mi mettete a negoziare a negoziare sui neofar payroll e perdete tutto quindi caricate ogni volta 20-30 volte quel conto con 200-300 euro e vi siete già mangiati un buon piano di accumulo che potete iniziare magari con molto più valore come in questo caso quindi la simulazione e poi purtroppo chiudo ma quindi il prossimo mercoledì entriamo nel vivo della strategia perché purtroppo le cose da dire non sono tanti e come tememo in un'ora è impossibile riuscire a parlare bene di tutto ci lasciamo adesso con questa simulazione poi mercoledì prossimo entriamo nel dettaglio della strategia quindi questo piano qui di accumulo fatto sul cot che ha pagato molto bene negli anni quindi con un piano di accumulo con 1000 euro di partenza quindi un piano di accumulo di ogni mese di 500 euro che è quello che poi proverò a fare io quindi questo poi sarà interessante per capire se io perché se io sarò il primo a farlo quindi poi io vi ho dato il link della chat ogni giorno vi aggiorno con questo studio quindi negli anni facendo una simulazione quindi anche perdendo il 26% per esempio come il 2013 che è stato un anno peggiore per il cot report o comunque chiudendo con un meno 3% sul 2012 il sistema in questo modo così come è stato strutturato e ha permesso di guadagnare comunque di portare diciamo questo piano di accumulo su livelli molto importanti questa può essere utopia probabilmente lo è perché solo sulla carta quindi in real ci sono mille altre variabili da tener conto però da domani magari chi vuole approcciarsi al training magari lo fa con tenendo in mente queste queste situazioni perché la matematica da questo punto di vista c'è a favore quindi e per chi è sottocapitalizzato secondo me l'unico modo reale oggettivo e sostenibile nel tempo è quello di conoscere bene una strategia puntare su quella strategia ma non essere fissato assolutamente su quella strategia ma con un piano di accumulo si ha tutto il tempo di modificare e di aggiustare il tiro e di lavorare su qualcosa che man mano diventa più diventa non perfetto perché non può essere però magari riesce a essere gestibile sia dalla vostra indole come trader che come comunque anche dal punto di vista monetario allora purtroppo adesso non riesco è passata già un'ora e allora mercoledì prossimo continuiamo questa situazione quindi io faccio vedere il conto io già l'avevo aperto faccio vedere un po' come sta andando l'ho denominato cammino del trader questo esperimento e quindi sto adesso è iniziato da da due mesetti allora quindi per adesso sto riuscendo a mantenere la linea gialla che è quella dei guadagni su un buon livello quindi superiore a quella rossa e come piano di accumulo ho depositato su questo dove si vede history questo però nei giorni successivi farò cercherò di fare quel deposito per avere un pack da 500 euro in modo tale che questo conto man mano cresce però io ho tutto il tempo di gestire questa strategia che poi adesso vedremo che chi comunque già seguito verrà verrà proprio modellata sia dal cot che dall'analisi retail quindi secondo me è molto bella come strategia veramente mi invito a tenerne conto perché io ve la spiegherò nei dettagli così in modo tale che voi possiate decidere se può fare a caso vostro oppure no quindi ad esempio questo è il conto vi troverete quasi sempre dalla parte giusta del trend perché poi si segue si seguiranno appunto delle indicazioni che poi vedremo mercoledì quindi vi invito al prossimo webinar quindi chi già si è registrato verrà registrato verrà automaticamente iscritto al prossimo e niente questo adesso leggo un po' di domande e poi ci salutiamo allora allora sì la registrazione sarà disponibile è necessario cambiare e continuare ad adattarsi alla situazione assolutamente Antonio questo è importantissimo bisogna saper soffrire assolutamente il mal di pancia è importante allora sì registrazione metti il link della chat che ho mostrato allora il link è qui secondo me non lo vedete perché lo posto ogni volta ma poche persone allora aspettate che non so vedo link ok ve l'ho mandato non so se lo vedete allora sì le slide se le volete potete sia il piano di accumulo queste cose questi studi potete averlo basta che me lo scrivete in chat allora Danilo se uno conto da 1000 euro e guadagna il 10% di un anno cioè 100 euro ne vale la pena fare trading per 100 euro no non vale la pena ma appunto se però si entra in un'ottica di risparmio e quindi di far crescere quel capitale allora può valer la pena ma è l'unico modo dire a un trader guarda metti 1000 euro perché ne fai 2000 ti faccio rischiare con un lotto perché magari hai solo 100 pips di margine da suicidio perché comunque non riuscirai ci puoi riuscire una volta però la successiva bruci il conto quindi l'obiettivo qual è quello che è quell'81% che vedete che non è soltanto una percentuale di Dick Mill ma vi assicuro che è una percentuale che si vede anche sulle azioni ho lavorato anche per una banca come supporto clienti a chi tradava l'azionario e forse probabilmente avrò visto solo un conto in guadagno su tutti quelli che vedevo quindi anche lì poi sulle azioni c'è da dire che molti purtroppo vanno ad aumentare il prezzo medio di carico perché si presuppone che un'azione magari un titolo buono forte non vada a fallire poi in realtà magari si io stesso l'ho provato a fare con Montepaschi di Siena ho perso comunque abbastanza capitale proprio perché mi illudevo che una banca storica di oltre con centinaia di anni alle spalle non potesse fallire o che lo Stato non lo facesse fallire così in realtà poi appunto è stata dell'istata dalla appunto dalla borsa e poi mi sono trovato le azioni azzerate e quel prezzo di medio di carico io non lo vedrò forse nemmeno quando arriverò in pensione rivedrò il prezzo di medio di carico che ho ad esempio su Montepaschi quindi quando si dice no CFD in realtà si perde si perde solo perché hai dall'altra parte il broker non è così è anche così ma dipende sempre dalla società perché comunque se trovate delle società serie che lavorano onestamente non c'è nessun non ha alcun senso andare a giocare contro perché se vi fanno pagare le commissioni perché mai dovrebbero giocarvi contro chi non ha conoscenze teoriche o lavorative come te ha qualche possibilità di combinare qualcosa di buono allo stesso no Gianfranco solo se inizia a lavorare seriamente cioè quando vedete queste cose su Facebook dei guadagni non scrivete info perché poi entrate in un circolo vizioso perché magari vi va anche bene e non credete gli account manager quando vi chiamano vi dicono investi qui c'è un titolo che vale sono tutte cavolate anche qui se fosse davvero una ci fosse davvero un vantaggio e fosse davvero così perché mai dovrebbe telefonarvi per dire di investire in quel titolo potrebbe farlo lui stesso investendo dei soldi facendo quel giochetto che abbiamo visto si sistema perché stare lì a cercare di convincervi di perdere tempo è illogico io su queste cose rimango basito però purtroppo ci sono molte persone che magari non che ci cascono Gianfranco sì anche se non hai lavorato in banca puoi comunque farcelo però il training devi studiare e devi anche magari rivolgerti a formatori seri però l'importante è che quando magari vi scrivete a un corso che magari vi costa anche 1000-2000 euro quindi magari quei soldi potevate destinarli a iniziare un piano di accumulo e magari poi vi dicono delle cose che si trovano anche in un webinar come questo dove io magari vi ho dato anche delle informazioni che reputo molto interessanti e magari qualcuno me le fa anche pagare cioè non ha senso dovete cercare dei formatori seri quindi magari che hanno anche dei riscontri statistici ce ne sono tantissimi di personaggi di persone molto serie nel settore e quindi poi vale sempre la regola d'oro che se io ti insegno ti chiedo dei soldi fammi capire se tu sei riuscito comunque anche nel nel tempo a ricavarci qualcosa perché se sei riuscito quindi a uno statement qualcosa che prova che la tua formazione è stata valida e quindi sei stato tu il primo a crederci allora in quel caso va bene assolutamente ok allora altre domande sì le opzioni vanilla non sono malvagie che io che non le avevo capite perché purtroppo le vendevo per incassare il premio e quindi quelle sono potenzialmente con una perdita inimitata quindi se volete incassare il premio subito Taleb lo spiega molto bene anche nel cigno nero quindi il libro che dovete leggere se continuate a fare questo giochetto per incassarvi il premio prima o poi vi arriva appunto il cigno nero che vi riprende tutto con gli interessi e perdete tutto quindi io voglio negoziare su quello che conosco quindi conosco bene l'euro dollaro perché ci ho sbattuto la testa per anni quindi se nel caso appunto voglio fare questo sperimento partire con questo progetto partendo però appunto con quello che conosco con l'euro dollaro con l'analisi dei retail il cot e con la tecnica che poi vedremo perché sono cose che reputo che mi diamo un vantaggio va bene ci sono tante altre domande mi fa piacere che vi sia piaciuto il webinar poi ci sentiamo comunque in chat per chi volesse comunque seguire questo progetto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo grazie a tutti grazie a tutti